Le previsioni meteo di mercoledì 13 settembre. Al nord ritorno a condizioni di tempo piuttosto stabile, con sole prevalenti su buona parte dell'Italia, isolati rovesci o temporali sull'arco alpino occidentale. Al centro poco nuvoloso su tutti i settori, sulla Sardegna bel tempo. Al sud isolati piovaschi sui rilievi calabresi, sole prevalente altrove. Venti forti da est, mari molto mossi o agitati, temperature stazionaria.